musica 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 e ben a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo in un gameplay sulla wii la wii stai vedendo un poco di filmato colore il media è stato cancellato selezionato allora mettiamo il mio ah no la pesa che io già ci sto chi mettiamo mettiamo chi la buccia ok anche se non mi ricordo che ho creato anche se non mi ricordo che ho creato cancellare il mi selezionato del canale mi significa cancellare anche nel gioco ok però io voglio entrare nel mio decidiamo se imparare palla a calistro palla a volo palla a volo palla a calistro facciamo una bella amichevole un giocatore 3.3 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 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 2 Aspettate Con questo berretto mi ricorda quello dekako pops Diddy Kong è uguale a quello dekako pops ragazzi Impossibile ecco qui la partita stiamo nel campo ora ci dovrebbero presentare i personaggi si ecco qui Luigi tod tod mario e questa è la nostra squadra contro brosa e junior wario e browser i tre cattivi si può dire ora lo spacca ragazzi qui ne vale tutto o gran error no troppo tardi come si ha capito mariano buona sperma gol sto subendo perchè ragazzi non sono tanto bravo ve lo dico oddio vai avevo la panna gol chi ha visto 2 a 2 rivediamo qui no lo va a vedere la marcatura sono molto importante oh mio dio oh mio dio ci vai qui va no vai pure 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 no si 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 tira 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 no oh si 4 a 2 mitico gigino mamma mia che partita che cazzo c'ha questo oddio oh cazzo che gol mamma mia sarò peggio di quella bomba nucleare oddio o è giusto io devo muovere che cazzo ho visto ah ecco sto mero facendo loro la palla attenzione ancora lui 7 e 4 mamma mi corri di nuovo a mc pro così freddo tira oddio vediamo tira 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 e che ci vuole mamma metteria l'ernia c'è lo scopo poco ammocciato secondo me no 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 non tirare non tirare tempo scaduto ok siamo a tre punti sotto cambio campo ok finito il primo tempo e ora un poco di pubblicità io di patatine le ho prese tante gustose fra grano non ce la faccio a stare senza le ho provate tutte americane tedesche olandesi con la sorpresa le mangiavo così senza tanti complimenti anche tre alla volta ma nessuna è come questa fidati di uno che le ha provate tutte amica chips è la migliore tedesche eccoci tornati ok direi di andare al secondo tempo e cule rotte vai al se e una e due e una e due e che c'è mamma eccoci schifo prendi pallone ciata no no canestro a meno uno sette sei per loro a meno canestro no vale da tre sette pari è il sette e mezzo ma se sei da quel colmo no oddio no 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 mamma mia no 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 ore se e ci ha pensato mariolino il buchino scherzo 10 10 parità ebbe così e puccia il biscottino puccialo poi dobbiamo sento da prenderci la palla se no che qua l'impresa si abbiamo la palla abbiamo la palla abbiamo la palla che cazzo fai passala attira 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 no oh mio dio mamma oh si tira e che cazzo ora la volta buona la volta buona vai mamma mia ancora lui 14 10 4 punti di scarto mamma mia no no tira attraverso tira attraverso tira attraverso bravo bruce e andiamo a 16 10 e si fa no 17 e siamo a 7 punti di scarto mamma mia vai ragazzi vai ragazzi ce la possiamo fare mamma mia un altro maestro e quando andiamo qua 19 10 9 punti di scarto veramente bisogna farsi il conto ormai a abbiamo fatto ancora punto è beccosi oddio che sta facendo mio dio! Mamma mia che canestro! Tocca a me! No! Tempo scaduto! Con 7 punti! 21-14! Che vittoria! Mamma mia una vittoria meritatissima direi! Ce lo sono meritati ragazzi! 7 punti di scarto! Vabbè! Direi che il video finisce qui e ci vediamo al prossimo video! Ciao a tutti!